Ciao a tutti ragazzi, come state? Io spero di trovarvi tutti bene. Allora, sono qui inquadrando solamente le mie mani che accarezzano questa coperta blu. Perché voglio soddisfare la richiesta di due persone in particolare che mi hanno richiesto diverso tempo fa un video di hand movements e hand sounds. Queste due persone sono Dalia che me l'ha richiesto veramente tantissimo tempo fa e più recentemente mi è stata fatta la stessa richiesta da una ragazza che si chiama Claudia. Io saluto entrambe, ciao, e vi mando un bacio. Grazie mille per la vostra richiesta e spero che riuscirò a soddisfarla anche se ho deciso di fare un video un po' diverso dai soliti hand movements sulla videocamera. Grazie mille per la vostra richiesta. 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 Per chi lo guarda è questa la mia intenzione ed è questo il motivo per cui sto cercando di parlare molto poco. Grazie mille per la vostra richiesta. 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 truh 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 vorrei che mi faceste sapere che cosa pensate di questo video perché ho in mente un altro genere di hand movements un po' diverso dal solito che io in realtà non ho mai visto su youtube e non so ditemi se apprezzate questo genere di video con dei movimenti delle mani quindi questi trigger visivi e in tal caso vi riproporrò anche quest'altra versione alla quale ho pensato negli ultimi giorni grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.